Ma che sto registrando? Non so come, non so se è bene, ma forse non c'è l'audio, no? Dovrei prendere solo. È stato puro caso, ti giuro Guido, che sono entrato nella stessa... Ma tra quanto tempo potete entrare in lobby? Tra poco, tra poco. Eh, mettiti in ricerca che ti invito. Mettiti in ricerca, ok? Derwigo! Derwigo! No, aspetta, ho diventato la fascia rossa. Uh, Jax970, finisce in live! Ha detto sicuro? Sì, sì, ho sentito, ho sentito. Ho accettato. Speriamo di disponere in un posto giusto per la roba. Ma nocciolino che cos'è? È tutto bello nello zaino, ok. Grazie. Oh, cioè, io ho detto, oh, non rifà. Nocciolino, nocciolino in pratica sarebbe la K-74, lo che è un moddato. Meglio che gli riporta nocciolino essendo uso il cancino, se mi fa di sparare. Anche lui ci ha perso molto, non ho capito. Beh, ci ha perso un equipaggiamento che costa un... Cioè, solo l'elmetto costa un 200... 250... 250 mila. E io me lo volevo tenere, perché è buono. Io so che non avrebbe sparato. Eh, bufà, devi fare un po' il simp. Fra, sto simpando maledettamente, perché tutta la roba che c'è addosso me la sarei tenuta tutta. Sai che fino hanno fatto gli erbacristi? Non lo so, me lo sto chiedendo anch'io. Mi sarei tenuto tutto, non immagini. Ma se fai... se vedi nella live... ma levo la mia? Molti sono passati a ammazzo della ucciso... eh. Adesso sono su Twitch, sto registrando. Mi chiamo voi, hai caricato prima tutto il computer di Fraunce. Io so 00. Eppure lui. Oh, nel posto migliore per fare sti scambi. Thanks. Ed ecco nocciolino. Must coprire il Frowse. La chat t'impazzisce? Bene. Possiamo andare. Grazie a tutti. PIECE OF SHIT! Non mica sei morto? No, no, mi ha coperto Fraus. Fraus, scrivi che devo curarmi. Eh, ma non credo che mi hai diciamolo. No, non credo che mi hai diciamolo. No, non hai merluzzato ragazzi, stavo concentrato semplicemente. Stai pensando nel fotografio? Eh, lo so, ma qui c'ho tutto a zero, stavo tutto scassato. Ma mi hanno distrutto le gambe, gambe e braccia. Mi sto giocando con quello che mi ha ucciso prima. Con un uomo di gran classe e cara dura. No, no, raga, le sto dando a lui perché quella è la sua kill. Che ha detto? Ha detto che le sta dando a te perché è la tua kill. Ehi, non ho lo zaino? Ehi, non ho lo zaino? Mi stai dicendo di prenderlo. Lo so, ma... Non c'è lo zaino davanti a me. Mi stai dicendo di prenderlo. Lo so, ma... Ah, non hai lo zaino, ok. Ho capito. Mo' l'ho letto che non ho lo zaino. No, no, non ho. Udda! Sto giocando con Fraus? Se vai sul Twitch di Fraus parliamo di videogiochi, stanno giocando insieme. Perché l'ho ci so... Io ho commentato, ho scritto vai Jags. Ma come... lo vedi che si vede cosa sta cliccando Fraus? Lo vedi quello per lei? È un programma. È bello sto... Ma sono nella stessa squadra, non ho capito? Sì, sono in due. Davide gli ha detto che... che gli voleva riportare le cose. Quindi Fraus ha detto, giochiamo insieme. Sì, è proprio da... Estrazione. Beh, ragazzi, con chi sto giocando? Praticamente lui mi ha ucciso nell'ultima run. Stava quasi morendo anche lui. E niente, in poche parole ha detto, beh, se ci facciamo una run insieme ti riporto la roba. Eh, ok. Ed è andata così. Stila l'off per testarli l'off di Dentro My Light. Metto un coricino. Tu vuole, insomma. Guardi, uomo. È stato divertente, comunque. Ti ringrazio. Comunque sei un ciattone a venire con l'SVD a Factory. Sei un ciattone. Sei veramente un ciattone. Sei stato veramente onesto. Guarda, io solo per come ti segui... Per il fatto che mi eri dato la roba è tutto. Oddio mio! Ecco. Che è successo? Diciamo come onoreficenza. Che ha fatto? Che significa come onoreficenza? Che ti ha fatto? Cosa? Ha detto come onoreficenza? Eh, lo so. Stiamo dicendo che gli è stata amicizia su... Mi ha fallato la richiesta. Beh, facciamo sì. Veloce la scappa. No, aspetta. No, voglio vedere se... Ti ha fatto VIP totale. Non lo sei chiesto. Non ho capito. Sono VIP? Sono VIP? Sono VIP? Eh... Ti ho impostato come VIP. Hai un segnalino per il quale ti visualizzo prima se scrivi e... Puoi postare link, eccetera eccetera. Sei un VIP del canale? Vabbè, lo sapete ragazzi che ogni cosa su questo canale, dalla moderazione, i VIP e tutto, si decide tutto con... Come posso dire, meriti sul campo, ecco. Grazie tantissimo. Eh, ma figurati, cioè, grazie a te che mi hai dato la roba, perché potevi pure dire, ah, ti ho ammazzato io, stronzo. E ti saresti tenuto la roba, ecco. E vabbè. E sti sumerito, grazie a te. E sti sumerito, grazie a te. Non funziona. C'è che c'è mia mia! Minchia! Ah, però sono slug. Vuoi registrare tutto? Si.